Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Game Time che oggi vi parlerà di novità per quanto riguarda la Xbox Scorpio e attenzione è stato ufficializzato un gioco attesissimo Allora ragazzi per tutti i possessori di PlayStation 4 intanto c'è una notizia interessante perché come ad ogni inizio di mese Sony ha regalato alcuni nuovi titoli agli abbonati di PlayStation Plus come me e come al solito sono stati rilasciati questi titoli sia per PlayStation 4, per PlayStation 3 e per PlayStation Vita Per quanto riguarda la line up di aprile per PlayStation 4 vengono regalati Draw to Death e Lovers in a Dangerous Space Time per PS4 appunto Per PS3 c'è un titolo impronunciabile In The Maltz The Lost Kingdom e Alien Rage Extended Edition, poi per PlayStation Vita invece ci sono 10 Seconds Ninja e Cruises and Chaos Quindi ci sono questi nuovi titoli, scaricateli subito, accendete la vostra PlayStation 4, la vostra PlayStation 3 e la vostra PlayStation Vita se qualcuno ancora l'accende e scaricate appunto questi titoli che sono gratuiti per tutti coloro che pagano in sostanza l'abbonamento per giocare online con PlayStation 4, PlayStation 3 o PlayStation Vita Questa settimana poi sul nostro sito internet tech.it vi abbiamo parlato di quello che è un nuovo dock per Nintendo Switch davvero molto curioso e retro Infatti per tutti coloro che hanno adorato il vecchio Nintendo 64 questa può essere una soluzione assolutamente da non lasciarsi scappare Perché? Perché questo è un dock per Nintendo Switch che appunto in sostanza è ricavato da un Nintendo 64 E che quindi se lo volete mettere dove mettevate una volta il vostro Nintendo 64 ecco operazione nostalgia ai massimi livelli Insomma questo è quanto ragazzi non c'è molto da dire E' un Nintendo 64 che è stato tramutato in un dock per Nintendo Switch però dai è carino In settimana si è poi discusso della Project Scorpio della nuova console di Microsoft della nuova Xbox Che sappiamo sarà una console di nuova generazione fondamentalmente sarà potentissima E la cosa che è stata detta in questa settimana è che Project Scorpio potrebbe arrivare già quest'estate Potrebbe arrivare già a giugno quindi sarebbe vicinissimo appunto questo nuovo hardware almeno in termini di presentazione Non sappiamo poi quando sarà ufficialmente disponibile in commercio per l'acquisto Ma appunto Microsoft potrebbe ben presto rivelare novità importanti e concrete su Project Scorpio E infine ragazzi la notizia che tutti stavano aspettando ve ne avevo parlato in anteprima qui in Game Time Ma è arrivata l'ufficialità di Destiny 2 Il gioco è ufficiale La prima ufficialità è stata data dall'account Twitter appunto di Destiny Che ha confermato che questo titolo sarà rilasciato entro l'anno E poi c'è stato anche un video trailer molto breve in realtà che è stato pubblicato dalla Software House In cui appunto si può già vedere qualcosa del gioco appunto in realtà non tantissimo Però Destiny 2 è ufficiale arriverà quest'anno Come vi ho già detto in un'altra puntata purtroppo non sarà possibile trasferire i risultati del precedente capitolo verso il secondo Quindi tutte le personalizzazioni i potenziamenti dei personaggi non potranno essere portati da Destiny 1 a Destiny 2 Però è comunque finalmente ufficiale questo gioco attesissimo E che appunto quindi sicuramente farà parlare di sé nelle prossime settimane Bene ragazzi quindi questa puntata finisce qui Io vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per i like, per le condivisioni e per le iscrizioni al canale Seguiteci anche sul nostro sito internet www.tech.it E in particolare anche sulla sezione games se siete interessati ai videogiochi E noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech Ciao a tutti